Si sapeva che sarebbe stata una partita di questo tipo qui con due squadre, loro che da sempre hanno questo atteggiamento, noi perché lo stiamo acquisendo, quindi è normale che la partita avesse potuto rappresentare questi capovolgimenti, queste emozioni eccetera. Io sono soddisfatto della prova ai ragazzi perché comunque si stava a sei minuti alla fine, abbiamo ricomandato una partita che non si meritava di perdere e abbiamo dimostrato con il carattere e il cuore che si possono raggiungere i risultati. Il direttore Rino dice che quando recoprì queste partite qui significa che non si retrocede e anche io la penso come lui, parte della battuta. Comunque sono contento perché stiamo dando un'impronta ben definita a questa squadra, sia a livello caratteriale sia a livello tecnodattico. Poi il tempo ci può solo giocare a favore perché dobbiamo crescere, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di giocare per poter maturare, strada facendo lo faranno. Grazie.